Siccome voglio farmi del male ho deciso di riguardarmi, ho finito proprio poco fa, di riguardare dall'inizio alla fine tutta Sampdoria Inter 0-0 e quindi voglio condividere con voi un'analisi più a freddo di una partita in cui l'Inter chiude con il 66% di possesso palla, 25 tiri verso la porta avversaria non tantissima precisione ma 25 tiri, comunque sono tanti. Voglio sottolineare 5 temi che secondo me sono emersi da questa partita iniziando però partendo da un'analisi più oggettiva e quindi anche più ponderata di tutto quello che abbiamo visto in campo per cui amiche e amici passioni interisti ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi vi chiedo subito un mi piace e l'iscrizione al canale se non lo avete ancora fatto così ci continuate ad aiutare a far crescere il progetto e non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti come quello di oggi in cui come detto analizziamo Sampdoria Inter, che cosa è successo in questa partita? punto numero uno, tema numero uno da sottolineare in questo contenuto di oggi un'analisi della gara, dell'andamento che è una partita che come dicevo ho appena rivisto l'Inter parte subito in maniera molto offensiva e in diverse occasioni crea i presupposti per andare a segnare il gol poi o manca l'ultimo passaggio corretto o manca la precisione al tiro o manca anche un calcio di rigore devo dire perché Darmian abbattuto da Murillo in area di rigore è tutta la vita calcio di rigore secondo me poi qui sembra che quando non si può mai parlare di arbitri qui sembra che sia sempre un alibi però come dicevo anche ieri in campo vanno tre squadre l'Inter, l'avversaria e la squadra arbitrale se siamo così critici nei confronti della nostra squadra dobbiamo esserlo anche nei confronti delle altre squadre ed in questo caso secondo me all'Inter manca un calcio di rigore dopo quattro minuti diciamo che sarebbe stato abbastanza rilevante ma a parte questo manca un calcio di rigore, manca precisione nell'ultimo passaggio manca precisione al tiro l'Inter crea ma è evidente che ha avuto delle difficoltà innanzitutto dettate da una mancanza di qualità secondo me sugli esterni sia a destra che a sinistra a sinistra soprattutto go senza sbagliato praticamente tutto mancavano bastoni e Di Marco che è entrato nel secondo tempo non c'erano sbocchi sugli esterni quindi l'Inter ha cercato di sfondare più per vie centrali Barella è stato secondo me quello che più di tutti ha cercato di generare collegamenti tra le parti e davanti invece Lukaku con le sue giocate a spalle alla porta ha attirato a sé gli avversari e ha creato lui le occasioni principali giocando anche con i compagni passano i minuti comunque l'Inter non sfonda arriva l'episodio tra Barella e Lukaku di cui parliamo tra poco da qui subentra un po' di nervosismo che incide anche sulla squadra e che diciamo incide nella parte centrale della partita secondo me subiamo qua un contropiede pericoloso la Samp gradualmente si abbassa dopo essere partita più alta di quello che mi aspettavo sinceramente cerca di abbassarsi e di ripartire in contropiede l'Inter nel secondo tempo ricomincia sempre all'attacco poi si vede che dopo dieci minuti, quindici circa c'è bisogno di forze fresche per continuare a spingere i cambi però anche qui non impattano molto se non di Marco nei primissimi minuti poi anche lui comincia a commettere diversi errori la Samp comunque genera un paio di occasioni non molto di più una con Gabbiadini due occasioni in cui sono stati bravissimi Barella e Mkhitaryan in chiusura a recuperare dei palloni importanti non c'è molto altro da segnalare l'Inter invece ha diverse occasioni dove però la sensazione è che voglia entrare dentro la porta con il pallone e ci sono diverse occasioni veramente nitide veramente importanti la più importante forse è quella al 94 su minuto e 30 secondi che ti può dare la vittoria con Di Marco che tocca il pallone per Lautaro Martinez che non riesce a tirare in porta da una posizione che condivido l'immagine per chi ci sta seguendo da YouTube è forse l'emblema, l'immagine più significativa di questa partita e che riassume perfettamente la partita con Lautaro praticamente solo Di Marco che poi forse aveva anche lo spazio per tirare prima c'è anche Carboni che accorre dietro il fatto sta che da questa situazione qui non riusciamo nemmeno a tirare in porta di fatto e questa è la sintesi di una partita in cui è mancata soprattutto la finalizzazione io nella scala degli errori e delle responsabilità in questa gara al primo posto oggi soprattutto metto la precisione in zona gol e poi viene il resto di cui parliamo tra poco questo purtroppo è il vero grandissimo problema secondo me dell'Inter un problema che ci portiamo dietro da sempre che diventa oggi ancora più pesante ovvero il problema di dover creare sempre ma quando dico sempre indico sempre 40 occasioni da gol per segnarne uno è una cosa che ho sottolineato anche quando avevamo i numeri da miglior attacco sì segniamo tre gol a partita ma dicevo sempre dobbiamo farne 25 avremmo meritato di farne molti di più questo è senza ombra di dubbio secondo me il vero grande problema dell'Inter più di ogni altro perché il gol inevitabilmente nasconde la polvere sotto il tappeto nasconde e risolve tanti problemi è evidente sappiamo che in Rosa non c'è il giocatore che decide la partita sporca da solo quindi sinceramente non so da qui a fine stagione come poter risolvere questa cosa però è un problema pesante e che ci portiamo dietro e che ci porteremo dietro molto probabilmente le tante occasioni create dall'Inter quindi vanno allo stesso tempo anche contestualizzate perché qualcuno non vogliono essere troppo severi nel giudizio dicendo però comunque abbiamo generato 25 tiri ok però secondo me questo va contestualizzato anche attorno al livello dell'avversario di sicuro non l'avversario più forte che abbiamo affrontato in stagione e anche a livello di una partita che tra le altre cose c'è una Samp che in questa partita tra l'altro doveva ridisegnare la difesa con giocatori che sono partiti, arrivati, infortunati, influenza l'Eris squalificato cioè non è proprio che abbiamo affrontato il Real Madrid quindi noi dall'altro lato abbiamo fatto un po' di turnover e se non lo puoi fare con la Samp allora quando lo fai un minimo di rotazione un po' di turnover soprattutto dopo che aveva avuto una settimana per preparare una settimana piena senza altre partite quindi chi va in campo può e deve fare sicuramente molto molto di più perché un pareggio sul campo della Samp può capitare non abbiamo vinto sul campo della Samp l'anno scorso non abbiamo vinto nell'anno dello scudetto è stato un pareggio sicuramente molto meno brutto dello 0-0 contro il Genoa di un anno fa però purtroppo ci siamo messi noi stessi nelle condizioni in una posizione in campionato di non poter più sbagliare e ancora una volta potevamo iniziare la nostra corsa solitaria per il secondo posto invece rimaniamo impantanati ma ci torniamo tra poco secondo tema, adesso andiamo più rapidi legato ad Inzaghi la curva nord stessa si è accesa a una grande discussione finito nel mirino della critica all'allenatore dell'Inter io in Inzaghi personalmente non vedo il principale responsabile se vogliamo dirlo così in questa partita perché il primo punto come dicevo erano i troppi gol sbagliati e quelli li sbagliano chi va in campo non Inzaghi né Marotta detto questo alcune scelte non mi sono piaciute nella gestione del mister non tanto dall'inizio dove comunque l'Inter avrebbe meritato di andare in vantaggio quanto a gara in corso dove subentra del nervosismo non riesce a sbloccarla secondo me l'allenatore ha il potere e anche il dovere di dare dei segnali alla squadra anche con le sostituzioni che decidi di fare e dunque dà indicazioni anche alla partita il solito cambio ruolo per ruolo senza innovazioni senza anche coraggio secondo me nel mettere magari i tre attaccanti tenere Lukaku dentro fino all'ultimo o se anche lo vuoi togliere nel momento in cui l'Inter nel secondo tempo comincia a crossare puntualmente ad ogni azione in area di rigore magari mi sarei aspettato una scelta anche fuori dal comune cioè anziché mettere Carboni che di testa non la prende butto dentro a Cerbi in area di rigore e magari dietro metto un bastone che è più preciso nella costruzione rispetto ad Acerbi non lo so quella sensazione di aver provato il tutto per tutto io non ce l'ho avuta e invece me la sarei aspettata terzo passaggio, terzo tema è la partita di Lukaku su Lukaku ho visto che si è accesa molta discussione per me come dicevo riguardando la partita l'ho seguito con particolare interesse l'ho seguito molto da vicino Lukaku soprattutto fino al quarantesimo minuto ha di fatto partecipato alla creazione di tutte le occasioni principali dell'Inter poi dal litigio con Barella in poi ha iniziato a sbagliare ogni singolo pallone stava palesemente perdendo lucidità per me ragazzi pensare che Lukaku dopo sei mesi di stop più i problemi al Chelsea potesse subito accendere l'interruttore e tornare ad essere il giocatore che parte in campo aperto e fa tutto da solo cioè nemmeno su FIFA succedono queste cose nemmeno la PlayStation è logico che in questo momento va impiegato diversamente e per 40 minuti è stato comunque determinante nel secondo tempo comunque continuavo a portare via tre uomini dalla Samp finché non rientra in forma va gestito così e anche così per me può essere determinante poi quarto punto sull'episodio collegato con Barella poi Lukaku secondo me sicuramente sbaglia nel dargli del figlio di esagera un po' nei toni sicuramente questo non si dovrebbe fare però nel richiamare Barella per me ha ragione perché Barella per me ha fatto una buona partita all'inizio nel primo tempo ha fatto da collante come dicevo a tutto campo ha toccato praticamente lo stesso numero di palloni degli altri centrocampisti pur avendo giocato 25 minuti in meno con delle percentuali di precisione molto molto elevate anzi più elevate degli altri però è sempre troppo nervoso esagerato questo è sotto gli occhi di tutti tra l'altro a me dà la sensazione non so che ne pensate voi di un giocatore che in questi casi lui si sente forte, fortissimo perché lo è e che esagera così in queste reazioni perché attorno a lui non rendono quanto lui crede di rendere o comunque quanto lui si sente forte non so mi dà la sensazione quindi di vedere che secondo lui gli altri non sono abbastanza e questa è una sensazione che purtroppo poi per me si rivela dannosa e lo si è visto ancora una volta pare tra le altre cose che Lukaku e Barella si fossero beccati o comunque avessero già chiacchierato molto durante il riscaldamento poi se vi capita di riguardare la partita a me Lukaku sembra dà la sensazione anche lui che già dai primi minuti molto spesso quando si conclude un'azione oppure quando viene sbagliato un pallone eccetera molto spesso cerca Barella lo va a guardare si sono scambiati degli sguardi e poi alla fine sbrocca il trentottesimo fateci caso quinto punto e chiudiamo poi chiudo con un segnale di amarezza che ha un sottofondo di rassegnazione purtroppo devo dire sono rassegnato al fatto che da qui a fine stagione di sicuro vivremo ancora sulle montagne russe ormai mi sembra abbastanza evidente adesso ci sarà il solito confronto da piano gentile alla prossima intervista un giocatore a caso dirà che forse c'è stata troppa convinzione ed un po' di supponenza forse abbiamo pensato che siamo più forti e quindi in un modo o nell'altro avremmo vinto la partita è una dichiarazione che puntualmente la stiamo rivedendo di settimana in settimana da inizio stagione quando si incappa in un passo falso come questo troviamo gli stimoli con le più forti in questo momento poi con le medio piccole subentra questo aspetto mentale che è difficile difficile da scardinare sarei stato ancora più preoccupato se non avessimo creato occasioni da gollo cioè se fosse finita 0-0 senza aver di fatto creato nulla però ecco il super cammino del Napoli che sta facendo qualcosa di straordinario e la mediocrità delle altre che sono lì poco dietro a noi non giustificano per me un inter che con diversi attenuanti che ci sono dovrebbe però stare almeno 5 o 6 punti più in alto oggi in campionato a prescindere da tutto il resto fatemi sapere cosa ne pensate anche voi se siete d'accordo oppure no nei commenti se avete la soluzione ditemi come si risolve il problema dei troppi gol sbagliati quindi attendo qui sotto la vostra soluzione oppure dei gol non segnati più che sbagliati come si risolve questa situazione fatemelo sapere in diretta poi alle 19.30 approfondiamo ulteriormente il tema della partita lo facciamo anche nel club di Passione Inter su www.passioninter.club se volete entrare a far parte della nostra splendida community vi lascio poi in descrizione per ascoltare in podcast l'approfondimento post partita di Samp Inter che abbiamo realizzato subito dopo la fine della gara per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui ciao ciao ciao